Non mi piace il lavoro che hai fatto, proprio non mi piace. Ci sto scomodissima e l'aspetto è orribile. Sto facendo del mio meglio. Beh, forse il tuo meglio non è sufficiente. Sono tornato. Ah, magnifico. Ci hai messo poco. È stato facile. Ho delle ottime notizie emozionanti, eccitanti, mamma. Tu esageri sempre, Callen. Tutto quanto è sempre magnifico, incredibile. Allora che c'è di magnifico? Ho scoperto dove si nascondono. Dici sul serio? Sai davvero dove si trova? Manicure, signor Crisp? Eh? E come posso dirti di no? Di me? Cos'è successo? Perché non lasci che me ne occupi io, mamma? So bene quello che faccio. È tutto sotto controllo. Fa tutto bene. Sono un agente di polizia. Crisp, sei in arresto. Metti le mani sulla testa, lentamente. In piedi. Kimball? Ancora? No. Le mani. Le ho alzate. Ma quando mi lascerai in pace? Butta la pistola! È proprio così. Butta la pistola! Ehi, sono un agente di polizia. Questo è un arresto. Quest'uomo è pazzo. Guarda, mi vuole uccidere. Avete intenzione di stare a guardare? Butta la pistola! Oh, merda! Sono un poliziotto, idiota. Sono il detective John Kimball. Quest'uomo è in arresto. Già, questo lo vedremo. Sto controllando. Non puoi entrare qui dentro e puntarmi in faccia a una pistola. Sto cercando di farmi fare una manicure. Ho dei testimoni. Anch'io ho una testimone. E questa volta è un omicidio. Ora sei mio. Grazie a tutti.